C'è un piccolo problema, Luciana durante la pubblicità è scomparsa, ma temo che... Ah, eccola! Ero di corsa, perché sai che ieri sera ho fatto tardissimo, ero dalla Defi, mi ha fatto le due. Sì, ho visto, complimenti. Capodanno, non faccio neanche capodanno, quindi sono un po' di corsa. Ma cos'è questa roba? Cos'è lì sull'asciugamaro? Mi sono messa la gonna Balenciaga, mio modello, un tarocco, Balengaga si chiama. E la nuova gonna di Balenciaga, ma non l'avete vista? Come devo fare, Filippa, per sfilare? Guarda come mi dona. Stai attenta che ti sviti, stai attenta. No, fate vedere un po' la gonna. 700 euro, la nuova provocazione di Balenciaga diventa virale. Ha capito? No, sto leggendo, un asciugamano... Allora, è una gonna, un'asciugonna praticamente, un asciugamano girato intorno alla vita che diventa gonna. Ma l'idea che devi pagare, non l'asciugamano, scusa. Ma infatti questo asciugamano è del 9, 4 euro e 99, figurati se pago l'idea, ma sono mica matta. Eh, abbi pazienza. Poi mi fa sempre ridere che dicono, l'ultima provocazione della moda, no? Per loro è la provocazione, no? In realtà, secondo me, non è una provocazione. È che ci prendi per il culo, sostanzialmente. Perché 700 euro, guarda che 700 euro è tanta roba. Ma ti dicevo che devi pagare l'idea. Eh, ho capito. Ma sì, ma 700 euro, io voglio addirittura il box doccia con tutta la rubinetteria. Però tu non hai avuto quell'idea lì e lo stilista sì. Eh, ho capito, sì, però c'è un minimo di... No, perché loro parlano della destrutturazione della realtà. Cioè, praticamente, tu vedi un asciugamano e pensi già ad una gonna. Però la destrutturazione riesce a farla solo Balenciaga oppure due bottiglie di Barolo. Cioè, io vedo una cosa e ne vedo già un'altra. Sì, io vedo te e penso a Brett Pitt. Ti rendi conto del ragionamento. Non sei originale, però posso capire. No, ma perché poi adesso non si capisce se la devi mettere con sotto in plein air oppure con le mutande. No, secondo me uno potrebbe fare anche la minigonna, praticamente, con l'asciugamanino da bidet. Quello però è un signore. Sì, anche un uomo, lo puoi mettere anche tu. No, grazie. Guarda che staresti bene, devi fare attenzione a mettere il calzino al polpaccio solo che... No, no, quello non cambia. Ma adesso pensa in spiaggia quest'estate. L'ho mai messi. Che tu esci dall'acqua, ti metti l'asciugamano, vai a prendere, non so, una Fanta. Dicei, hai visto? È il nuovo modello Balenciaga. Ma non è un asciugamano, no? È Balenciaga. È bello però uno. Allora, a proposito di provocazione. Oddio. Io a questo punto consiglio a Balenciaga una nuova eau de toilette. Oddio mio. Un'aude de toilette fatta con l'acqua del galleggiante del batter. Secondo me può essere una bella provocazione. Ed è strutturata anche quella. Ed è strutturata. Ti aiuto? No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Dove vai? Mi metto qua perché ho paura. Ma di che? Di te. Allora. No, ma comunque, a proposito di follia, anche gli animali stanno dando i numeri. Sì. Non so se hai visto quel cane americano. Il cane americano? Il cane americano, marino, si chiama, vediamolo. No. Cane barboncino, gioca col telecomando, acquista 70 euro di film porno. La bolletta è dal capogiro. Vabbè. E secondo me gli è anche piaciuta parecchio. Guarda che faccia che ha voluta. Sì, è contento. È contento, sì. Ecco, proprio il commissario sex. Il commissario sex. Bene. Un hot dog e soprattutto un porco cane. Ecco. Allora, pensa che il padrone... Lascia miseria. Lasciami stare. No, non lo lascio. Il padrone ha detto, perché ovviamente uno pensa che sarà stato il padrone, cioè, e lui ha detto assolutamente no, perché il mio cane è molto, molto, molto intelligente. Ma tanto, perché... Cioè, ma tu sospetti che... Cioè, ma tu sospetti che... Mettere la mail, la password, il PIN, cioè, inolio e sto io, che sono una umana. Sospetti che sia stata data la colpa a lui che sia... Ma, minimamente. Poi, per carità, magari lui ha quattro zampe con due schia... O con una schiaccia al PIN, con l'altro la password, con l'altro parla con l'operatore. Ci sta, eh? Ci sta, può essere, sì. Però, devo dire che, dopo Rin Tin Tin, non c'era stato nessun cane. Nessun caso, direi di simile. Di cani così straordinario, no? Io aprirei anche un social per cani a questo punto. Only Cans, dove tu vai lì e proprio... No, perché guarda che... Poi 70 euro sono tanti. Io ho detto, ma 70 euro per un film solo è tanta roba? Che cos'è? Un colossal, ben dur. E invece sono tanti piccoli filmetti. Magari c'è proprio una sezione... Ti sei appassionata, sì, sì. E allora io ho fatto tutta una serie di proposte, di titoli di porno per cani. No, no. No. Allora, Le calde notti di Lilli e il vagabondo. Il Chihuahua che ha letto fa... Wawa. Pippe, Pluto e Paperina. Eh, dai! No, non applaudire, questa non si può applaudire. Ma che non mi dà mai retta nessuno? Pippe, Pluto e Paperina. Ma sì, dai! Ma che vergogna! Biancaneve e i Sette Alani. Ecco. Labrador, con l'apostrofo. Doberman e Dobergenau. Nove e sette e mezzo. E quel gran pezzo di San Bernardo, tutta nuda e tutta calda. Bene, grazie. Finito? No. No, no, dai. Se non ti piace, prendi e vai. No, perché se cominciamo così non si sa dove si arriva, capito? No, prendi e vai come il supermercato di Verona. Ne hai parlato con il nostro amico Luca? No. No, perché praticamente a Verona hanno aperto e inaugurato questo nuovo supermercato che si chiama prendi e vai, ciapa e scappa in piemontese potrebbe essere. Praticamente tu entri lì, metti tutti i prodotti che vuoi nella tua borsa, giri tranquillamente per il supermercato, dopodiché passi dentro uno scanner come all'aeroporto, arrivi alle casse, paghi con la carta e non devi fare nient'altro. Perché praticamente sei monitorato, vedi, da tutte le telecamere che sono messe sul soffitto. Cioè, il grande fratello in confronto è, non so, il fantabosco di Ray Gulp. E scusa, e se poi devi restituire qualcosa, che quando arrivi alla cassa ci ripensi, a me capita sempre. Sì, poi, ti segue, ti segue. No, no, ma se io dico già passato lo scanner e voglio restituire, non so, il latte condensato, cosa faccio? Adesso non mi devi rompere però i coglioni, perché non lo so esattamente. No, perché se dici una cosa devi essere preciso. E allora esattamente, ma non l'ho mica inaugurato io, adesso facciamo domanda. No, deve sapere. No, io ti sto dicendo che se tu prendi un prodotto e lo prendo, poi lo rimetti lì e poi dopo lo prendi, lo scanne, no, la telecamera se ne ha fatto. No, ho capito, io dico se hai già passato lo scanner, non prima. Vabbè, parliamo in più. Sono stanca, io sono arrivata qua in stato di semi-incoscienza. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora non diamo informazioni. Allora, sto dicendo che lo scanner vede tutto quello che tu fai. Se tu vuoi prendere una cacciotta e mettertela nelle mutande per far finta di avere un bel culo, la telecamera se ne accorge, capito? Perché tu fai questo? No, però magari c'è un uomo che, insomma, si prende le nespole e se le mette per far vedere che ne ha più di due e lo notano, lo vedono. Cioè, se tu prendi le soglie o le surgelate e te le metti al posto delle solette, ti vedono. Ho capito. Cioè, la bambina, quella che rubava la pesca per darla al papà, la Verona la fulmina. Ho capito. Ok? Buon. Va bene. Poi risolvi anche alla radice il problema dei ragni. È certo. Eh sì, perché il ladro o ruba la telecamera o non ruba nient'altro. Guarda che... Però il problema è che facendo così siamo sempre più soli. Perché magari lavoriamo in smart working, magari vediamo gli amici online, magari facciamo ginnastica con Zoom. Poi almeno andavi al supermercato, facevi due parole, incontrai qualcuno. Adesso se non trovi i fagiolini arriva Terminator che ti dice dove eri messi, capisci? Adesso guarda che il futuro bisogna aspettarselo perché arriveranno gli ospiti qua che si faranno le domande da soli. Vabbè, come Marzullo è capostipite, si faccia una domanda e si dà una risposta. E certo. Ciao Gigi. È intelligenza artificiale anche lui. Ma no, ma ci sarà... Speriamo che venga a trovarci. Vorrei fare un appello. Sì, ma non lo lasciano. E vabbè, ma lasciatecelo lì. Una sera. Marzullo libero. Marzullo libero. Sì, ma è mica gli arresti domiciliari. No, no, insomma, una volta che venga. Vabbè. Vabbè. Comunque, insomma, ci sarà anche meno lavoro per le cassiere e a questo punto ci sarà più lavoro per i garanti della privacy. Guarda che le cassiere a me piacciono. È proprio una figura più professionale che mi piace tantissimo. Soprattutto per gli anziani perché sono pazienti, gliela conto. Sì, sì. Adesso in questi supermercati qua... A me aiutano sempre ad aprire la borsa perché sai che... E arrivi con le monete in mano, tutte le montano. No, no, sai che le borse si appiccicano tutte ormai perché sono di quella... Infatti bisogna avere proprio il polpastrello degli scimpanzè che fa attrito. E poi dico, faccia lei. E lei mi ha pietà e lo fa sempre. No, infatti non ci saranno più perché soprattutto gli anziani è difficile che abbiano la carta. E tra l'altro non riusciranno neanche a aiutarci con tutta la sarabanda delle carte. Perché una volta era semplice. Tu andavi col bancomat, mettevi il bancomat, poi digitavi il PIN, pagavi... No, prima devi fare l'enter. Sì, è uguale. No, ma devi essere precisa, non è che puoi... Vabbè. Adesso arrivi con la carta, appoggi la carta e a volte non devi neanche digitare il PIN. Dipende da quanto spendi sotto una certa cifra. Sì, però invece ci sono, per esempio, il mio tetto è 50 euro, però ci sono alcuni supermercati che non va bene neanche 50 euro. Per cui tu vai via e ti chiedi, no signora deve mettere il codice, allora torna indietro. E poi comincia sta sarabanda, lo appoggi, lo appoggi, no lo infili, lo infili di più, di più, sopra, sopra, no sotto, sotto, ancora, ancora. No, allora lo tiri fuori e poi lo rimetta dentro, che se tu senti solo l'audio, sembra l'audio di un porno del cane di prima. E poi dietro si forma un capannello, perché nessuno sa se lo devi infilare o devi appoggiare, bisogna capire, boh, al momento. E dietro si forma sto capannello di dotti medici e sapienti che ti dicono, no ma lo infili, no no, guardi lo tiri fuori e poi lo rimetta dentro. Lo passi sul pantalone che si sta smagnetizzando, forse il chip, il chip, cioè diventi veramente matta. Comunque andrò a vedere perché mi incuriosisce molto. La cosa importante, quando vai al supermercato, adesso, da adesso in avanti, è comprare sempre la carta igienica. Da, una roba un po' così. Tanto lì dovevamo andare. Perché c'è questo nuovo trend di TikTok per eliminare i cattivi odori dal frigo, che io pensavo, vabbè, butti il peperone che ha muffito, o fai attenzione al gorgonzola, lo sigilis, prima che colonizzi di puzza tutto il frigo. Invece no, tu prendi un rotolo, non tutti e sei, un rotolo di carta igienica e lo appoggi di fianco alla fetta di Sant'Onore. Certo, l'immagine non è meravigliosa, leva un po' l'appetito. Però assorbe, 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 capisci? Ed è anche un memento mori, cioè tu apri il frigo, vedi la carta igienica, c'è inutile che mangi tutta sta roba. Lì dobbiamo finire. Poi, per carità, questo rotolo lo puoi anche usare nella maniera classica. Certo, non saprà più di lichene d'Islanda o fiori di tiaree, magari sa di spezzatino di scamone o di fegato alla veneziana, che non è proprio il massimo, però va bene lo stesso. Poi magari sei in bagno, fai la pipì e dici, ma che puzza, ma mica ho mangiato gli asparagi? Ah no, è la carta igienica. Dì, è finita la carta igienica? No, ce n'è ancora un rotolo in frigo, vicino al kefir. Poi è anche molto comodo d'estate, perché d'estate rinfresca, senti proprio il fresco degli alpeggi, tonifica, cioè una specie di crioterapia, anche in caso di emissioni pericolose. Tra l'altro, a proposito di emissioni pericolose, c'è un bel video, proprio un bel momento istituzionale, di quelli proprio di discorsi, come quelli di Kennedy e Obama, che entreranno nella storia del nostro paese, fatto da Salvini, vediamolo, perché è molto bello. A proposito di emissioni pericolose, attenzione. A volte ho dovuto spiegare a qualche collega che non c'è il trattore elettrico, perché è il maltrattore inquina, amico mio. E anche gli allevamenti bovini inquinano perché le vacche emettono, sì. L'essere vivente emette, quindi strappo un sor... Eh, si emette, ragazzi. Se uno vive, se uno respira... Emette, hai capito? Onestamente ha ragione. Anche lui ha problemi di emissione. Sembra vasco. Su questo non si può dargli torta, è così. No, ma la cosa che fa ridere è che lui parla dei trattori elettrici e finiti a parlare, si scorregge. Cioè, che non riesce a capire quale groviglio di pensiero e quale valanga l'ha portata ad arrivare in questo cul de sac, che vorrei dire, che mi sembra l'espressione migliore. Però lui fa sempre così, eh. Cioè, tante volte emette una cosa, poi emette il contrario, ne parlavi proprio in precedenza. Cioè, dice una cosa e poi dice anche il contrario. Sentiamo cosa diceva nel 2015. Senti un po'. La Lega lancia questa proposta tre giorni. Nella prima settimana di novembre blocchiamo tutto, fermiamo tutto, non compriamo più un accidente, non consumiamo più un accidente, non paghiamo più una lira. Il Paese non ha bisogno di blocchi, di fermi, di scioperi, ha bisogno di correre, di competere, di produrre. Ho firmato ieri sera un'ordinanza di precettazione, non 24 ore di sciopero, ma al massimo 4 ore di sciopero, venerdì dalle 9 alle 13. È buono. Non possiamo dipendere dagli umori di Landini e di qualcuno che fa politica utilizzando i lavoratori. No, ma, cioè, emette una cosa, poi emette il contrario. E non è, dipende dalle circostanze. No, come dicevi, cambiare idea è, insomma, è un sintomo di intelligenza. No, lo diceva Zai, sì, sì. Ma allora è un genio, è Leonardo da Vinci, eh, Salvini. Comunque va bene. Allora, senti, per chiudere, volevo, insomma, è stata una settimana molto difficile con degli accadimenti tremendi e prima ancora di questi ultimi accadimenti che sono successi, c'è stata una, ho letto una notizia sui giornali che è la storia di questo ragazzo di 13 anni che si è tolto la vita a Palermo perché è vittima dei bulli. Una cosa molto... Terribile, sì. Molto terribile, fortissima. I giornali l'hanno chiamato Giovanni perché, essendo minorenne, non si poteva scrivere il nome e io vorrei leggere una letterina a Giovanni e a tutte i Giovanni e le Giovanni. Le voglio fare qua. Vai. Caro Giovanni, volevo chiederti scusa. Noi con te abbiamo perso e abbiamo perso nella maniera più terribile perché è stata una sconfitta ma senza nemmeno un vincitore. Hanno perso gli adulti, ha perso la scuola che doveva proteggerti, ha perso la società che ancora non capisce quanto sia utile, è necessaria e fondamentale un'educazione sessuale e sentimentale a scuola. Oggi in Italia un giovane su sei è vittima di bullismo. Il 20% è tra gli undicenni, più femmine che maschi. Il 70% dei ricoveri per tentato suicidio sono giovani e dall'inizio della pandemia questi casi sono aumentati a dismisura. Quindi sono tanti, tantissimi, ma anche se fosse solo uno sarebbe comunque una tragedia. Quindi ora mi rivolgo a te, Giovanni o Giovanna, che porti gli occhiali spessi, che è il girovita di Asterix, i denti da coniglio e le orecchie divaricate. A te che alle feste nessuno ti invita, che ami le poesie e non conosci Pogba, ma Quasimodo. A te che mangi sempre la stessa merenda o che balbetti. A te che vai a scuola tutti i giorni col terrore addosso e preferiresti emigrare in Mozambico. Ci vai pieno di paura perché ci sono dei compagni che ti perseguitano e ogni giorno, ogni santissimo giorno, ti prendono in giro, ti spingono, ti menano, ti rendono la vita impossibile. Ti svelo un segreto. Non c'è niente di impossibile. Una soluzione si trova sempre. Non devi arrenderti. Il mondo non finisce con la tua scuola. Se la vita fosse un film al cinema, non sei nemmeno alla fine del primo tempo. La cosa davvero impossibile è tenersi tutto dentro e sopportare e soffrire senza dire niente a nessuno. Il mondo è fatto così. Male. Per il mondo sei sempre troppo basso, troppo alto, col naso troppo grande, le orecchie troppo sventolano, sei abbastanza macio, non sei abbastanza figa, sei appassionato di quello che studi, secchione, non studi niente, cretino, ti piace qualcuno dello stesso sesso, frocio, lesbica, ti piacciono i fumetti dell'arte, frocio, lesbica, sei sensibile, frocio, lesbica. Comunque, ti comporti, c'è sempre qualche stronzo che ti prende di mira. Ma sappi che se c'è una colpa, non è certo tua. E di chi vede e se ne frega. E di chi ti sta intorno e non si accorge. Io credo che il senso del nostro stare al mondo sia soprattutto questo, accorgersi. Accorgersi di come stanno gli altri, accorgersi di chi ti chiede aiuto in silenzio, accorgersi della sua fatica a stare al mondo, del peso che ogni giorno si porta appresso. Accorgersi che dietro un va tutto bene e in realtà c'è un va tutto male. Accorgersi, semplicemente. E invece spesso non ci accorgiamo di niente finché è troppo tardi. Perché è vero che il bullismo non c'è sempre stato, ma un tempo stava chiuso nelle quattro mura della classe, non restava in quell'archivio perpetuo e mondiale delle schifezze che è in internet. E poi dire che c'è sempre stato non significa niente, come anche lo scorbuto e la rogna ci sono sempre stati, ma per fortuna abbiamo trovato dei rimedi. Quindi, ragazzi, non fate sciocchezze, chiedete aiuto, scegliete un adulto, quello che vi sembra meno pirla, e andate a parlare con lui, raccontategli tutto, 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 tutto. Fidatevi di me, i bulli possono essere sbullonati e con l'aiuto di un adulto li sbulloniamo più in fretta. PS. Ciao Giovanni, di solito davanti a questi dolori si dice facciamo un passo indietro. Ecco no, per te Giovanni dobbiamo fare un passo avanti e dire che la battaglia contro il bullismo non è persa e anche un centimetro guadagnato vuol dire salvare una vita. C'è un numero di telefono per chi è vittima o vuole denunciare degli atti di bullismo contro i minori. È il 114 ed è attivo 24 ore su 24. Bravo. Bravissima. È una storia terribile. Giovanni Giovanni di cui ho scritto anche io un pezzettino che uscirà su oggi della settimana prossima Giovanni si è impiccato nella casa di alla scala di casa sua vicino a Palermo e aveva 13 anni e dicevano che fosse gay l'avevano anche cambiato scuola i genitori ma si vede che insomma la situazione era veramente bisogna imparare ad ascoltare all'accordo tutto qua semplicemente che non è semplice anche quello che sta succedendo e che è successo insomma ce lo racconta mandiamo la pubblicità subito dopo succedono due cose fighe belle deliziose carine meravigliose subito dopo succedono quattro cose adesso smetti succedono sei no otto avremo Enrico Brignano ehi Ornella Manoni con Samuele Versani Achille Lauro è il nostro tavolo pubblicità è il nostro tavolo Grazie a tutti.